buongiorno amici e ben ritrovati in una nuova puntata dedicata ai grandi casi complice anche periodo in cui si è data grande visibilità a una vicenda giudiziaria tremenda costellata da numerose incertezze e diciamo clamorosi abbagli investigativi e indubbiamente insomma il riferimento è al caso di elisa claus oggi lo ricostruiamo insieme qui all'interno dello spazio dedicato ai grandi casi e cercheremo di approfondire anche gli aspetti che caratterizzavano in maniera estremamente particolare estremamente peculiare la firma comportamentale di danilo restivo firma che effettivamente oltre al caso di elisa e al caso di eter barnett come vedremo in realtà torna anche in altre vicende giudiziarie che ancora diciamo non si sono definite ma in cui il ruolo di danilo restivo potrebbe effettivamente aver avuto diciamo modo di manifestarsi però diciamo restiamo su due casi che sono stati acclarati e sono stati attribuiti a lui ossia quello di elisa claus l'origine in qualche modo della serie e il caso di eter barnett il 12 settembre il 1993 intorno alle 11 30 elisa claus esce di casa in compagnia della michaeliana decillis è una soleggiata domenica di fine estate a potenza ed elisa 16 anni passeggia per le vie della sua città felice soddisfatta perché ha superato brillantemente l'esame di riparazione per accedere chiaramente alla classe superiore della scuola insomma che frequentava i genitori fratelli le stanno la stanno aspettando per andare a scuola una giornata in campagna e come diciamo previsto elisa li raggiungerà diciamo all'ora di pranzo saluta l'amica e diciamo si dirige verso la chiesa della santissima trinità la chiesa principale quella più prestigiosa appunto del capoluogo lucano e come vedremo da quella chiesa di fatto non è mai più uscita lì ad aspettarla c'è un ragazzo di potenza originario della sicilia molto controverso e già molto noto diciamo in città di nome danilo restivo all'epoca 21enne che con ogni probabilità una cotta per elisa e che la giornata prima l'aveva contattata a casa telefonandole promettendole una sorta di regalo motivato da appunto dall'aver superato l'esame di riparazione elisa non ricambia assolutamente l'interesse per questo ragazzo così problematico così goffo ma anche così diciamo inquietante e però è una ragazzina estremamente buona estremamente generosa estremamente empatica quindi non se la sente di rifiutare in maniera netta quell'invito e purtroppo questa questa sua bontà la pagherà con la vita la chiesa quando i due si incontrano è praticamente vuota stanno uscendo le ultime persone i due ragazzi entrano e vanno dietro l'altare per parlare con più tranquillità elisa svanisce esattamente pochi istanti dopo la cercheranno per 17 lunghissimi anni in italia all'estero complice una serie di depistaggi falsi avvistamenti come vedremo una vicenda depistata eh a più riprese e anche qui che ha visto spesso l'intervento anche di sciacalli di ogni genere si scoprirà tuttavia che la povera ragazza non ha mai fatto molta strada e certamente non ha mai lasciato potenza il suo cadavere infatti viene ritrovato proprio nel sottotetto della chiesa della santissima trinità 17 anni dopo 17 lunghissimi anni dopo sin da subito restivo viene in qualche modo interessato dagli inquirenti anche perché la famiglia clubs in particolare insomma i due fratelli di elisa puntano su di lui in maniera molto netta del resto insomma lo stesso giorno restivo lo stesso giorno della scomparsa di elisa si era recato al pronto soccorso ed era ricoperto di sangue cioè c'era veramente tanto sangue una quantità di sangue del tutto incoerente con il tipo di incidente che lui aveva descritto ossia eh aveva raccontato di essere caduto eh all'interno di un cantiere dove c'erano delle scale mobili in costruzione però purtroppo nonostante diciamo già qualche voce si rincorreva su restivo per quanto riguardava i suoi strani interessi sessuali e soprattutto insomma le sue attività nei confronti di alcune ragazzette insomma della della di potenza e non solo nonostante ciò non non si ritenne di approfondire la sua posizione poco tempo dopo però si scoprì che effettivamente attormentare una serie di ragazze studentesse che abitavano a eh potenza sia con il taglio di ciocche mentre magari passeggiavano o erano all'interno di luoghi pubblici o sul pullman e soprattutto attraverso telefonate anonime in cui molto spesso veniva anche fatta sentire la diciamo la sinfonia di Beethoven meglio nota come per Elisa effettivamente dietro tutti questi atti così esecrabili e così inquietanti c'era proprio Danilo Restivo la mattina appunto vi dicevamo del eh 12 settembre del 1993 intorno all'ora di pranzo quindi intorno alle 12 e 30 di Elisa fondamentalmente si perde ogni traccia Danilo Restivo viene attenzionato immediatamente naturalmente nega ogni addebito e in questo effettivamente viene mh protetto quantomeno viene immediatamente supportato dalla sua famiglia eh però ripeto la sua famiglia eh in passato l'aveva già protetto altre volte ecco l'elemento su cui magari mi mi permetto di soffermare proprio questo magari gli inquirenti potevano non possedere tutta una serie di informazioni all'epoca della scomparsa di Elisa e questo per carità ci può anche stare però la famiglia lo sapeva che lui aveva avuto già atteggiamenti piuttosto diciamo inquietanti a dir poco di qualche anno prima quando lui aveva 14 anni era successo qualcosa di veramente molto grave aveva di fatto sequestrato e seviziato due ragazzi li aveva legati un ragazzo e una ragazza due più piccoli di lui aveva li aveva portati in una specie di container li aveva legati e bendati aveva accoltellato al collo questo ragazzino per disfarsene ogni improbabilità e avere campo libero con la ragazzina che era il suo vero obiettivo per quei fatti la famiglia di restivo in particolare il padre a quanto apprendiamo eh chiese ottenne da parte della famiglia del bambino ferito gravemente mancava davvero pochissimo per poterlo sgozzare in maniera letale ebbene la famiglia non sporse una denuncia nei confronti di restivo perché a quanto sembra il padre offrì una somma di denaro era una famiglia che si trovava in difficoltà però certamente insomma il fatto divenne insomma noto all'interno del perimetro di insomma di chi abitava a potenza tant'è vero che molti genitori davano indicazioni molto particolari anche estremamente chiare ai figli ossia di non giocare mai da soli con Danilo restivo e questo ripeto risale al periodo assai antecedente rispetto alla scomparsa di Elisa parliamo di almeno setto otto anni prima la pessima abitudine compulsiva feticistica chiaramente di tagliare i capelli alle ragazzine era già qualcosa che si era ampiamente manifestato eh a carico di restivo e che come vedremo continuerà a manifestarsi del resto insomma con i parafilici gravi come lui è chiaro che quel tipo di compulsione difficilmente può sedarsi col passare degli anni perché si tratta proprio di una modalità attraverso cui questo tipo di soggetti eh riesce a eccitarsi sessualmente quindi è qualcosa che una volta che si instaura all'interno di un preciso copione eh comportamentale dal punto di vista psicosessuale è chiaro che difficilmente il soggetto se ne libera ed era già noto che lui aveva questa ossessione per i capelli femminili tant'è vero che era stato soprannominato proprio a potenza il parrucchiere quindi insomma diciamo che la famiglia ha qualche elemento di sospetto in più probabilmente all'epoca dei fatti insomma poteva anche avercelo sotto questo aspetto quantomeno in merito a quelli che erano insomma gli atteggiamenti e i comportamenti che Danilo aveva già ampiamente manifestato prima della scomparsa di Elisa ma tant'è questo non avvene anzi di fatto Danilo venne poi fondamentalmente fatto fatto uscire dal circuito di potenza venne mandato prima in alcuni posti in Italia e poi appunto a Bormauf dove poi incontrò e sposò una donna italiana molto più grande di lui che era con lui poi anche quando avviene il secondo omicidio attribuito a lui ossia quello della sarda Elter Barnett che era la sua dirimpettaia a Capstone Road. Il 22 dicembre del 93 il giorno della scomparsa di Elisa Club sembra registrare una svolta ma solo apparente venne arrestato per falsa dichiarazione e schiega un ragazzo albanese di vent'anni che secondo un testimone era con Elisa proprio il giorno della scomparsa intorno alle 13.45 ma ovviamente questa pista poi si risolverà in nulla di fatto e eh Giega verrà poi scarcerato il 12 gennaio dell'anno successivo. Il 10 settembre del 94 Restivo torna sotto la lente degli investigatori e viene indagato ma soltanto per false dichiarazioni per cui poi verrà anche processato ma effettivamente insomma si scopre che effettivamente lui di quella giornata aveva reso una diciamo un racconto non non veritiero però non si fa il passo in qualche modo logicamente immediato eh ossia quello di ritenerlo in quel sospettato anche per l'omicidio di Elisa perché poi a quel punto è chiaro a tutti almeno alla famiglia Clubs è chiaro dal primo istante che Elisa non possa essersi allontanata volontariamente ma dopo che Restivo comincia a dire tutta una serie di cose che non stanno in cielo né in terra insomma la possibilità che quelle false dichiarazioni fossero in qualche modo finalizzate a coprire se stesso insomma a qualcuno con la lampadina poteva anche accendersi ma così non avvenne. Di là qualche giorno il 6 ottobre del 94 ancora torna ancora in auge la pista albanese perché un vigilo urbano di Policoro dichiara che Elisa si trova in Albania ma dopo pochi giorni chiaramente anche questa pista perde completamente di consistenza e si traduce nell'ennesimo diciamo buco nell'acqua però serve a spostare l'attenzione da Restivo quindi comunque è stata diciamo una pista alternativa che ha fornito comunque una serie di problematiche all'inchiesta ulteriore. Il 7 marzo del 95 Restivo viene condannato per farsi dichiarazioni in relazione al caso Clubs. L'11 maggio del 99 su un sito dedicato ad Elisa che era stato voluto e gestito proprio dalla famiglia Clubs arriva un messaggio di posta elettronica a firmarlo apparentemente sembrerebbe la stessa Elisa che raccontava di trovarsi in Sud America di non avere intenzione di far ritorno a potenza e chiaramente di non voler riprendere i contatti con la famiglia. Ovviamente la famiglia Clubs segnala immediatamente questo messaggio ritenendo assolutamente un falso e in effetti l'indagine che ne segue scopre che il messaggio è partito da un inter poi di potenza e i sospetti immediatamente ricadono, indovinate un po' proprio su Danilo Restivo che chiaramente nega ogni addebito ma in realtà insomma ci sono pochi dubbi sul fatto che quel messaggio lui e soltanto lui possa averlo inviato. Del resto non è neanche il primo messaggio che in qualche modo in blog che raccontavano la vicenda o si occupavano della vicenda di Elisa è riconducibile a Restivo. Diciamo che ci fu poi un blog successivo che venne aperto proprio per affrontare il caso Clubs e in cui c'erano una serie di profili falsi ampiamente riconducibili a Danilo Restivo in cui Danilo Restivo veniva difeso a spalatratta insomma all'interno di questo tipo di contenuti. Quindi questa abitudine di inventarsi profili falsi per orare la sua causa, addirittura depistare le indagini è un'attività che Restivo effettivamente sembra commettere abbastanza reiteratamente. Il 2 novembre del 2002 entra in scena però la polizia del Dorset. Perché? Perché nel frattempo muore un'altra donna. Heather Barnett, una sarta che era assidente a Bournemouth ed era proprio diciamo di rimpettaia nella stessa via di Restivo e della sua compagna. Sono in particolare due gli elementi presenti sulla scena del crimine che colpiscono molto gli inquirenti e che non solo colpiscono gli inquirenti ma portano Gildo Claps in particolare a comprendere che probabilmente l'omicidio di Heather Barnett poteva essere collegato alla scomparsa della sorella. E lui va dalla polizia del Dorset dicendo guardate carissimi che di mezzo a questa storia con ogni probabilità c'è proprio Danilo Restivo che guarda caso è il dirimpettaio della vittima. E dopo un lungo interrogatorio li convince che effettivamente Danilo Restivo possa essere coinvolto. Perché? Perché che cosa aveva attirato l'attenzione di Gildo Claps? Il fatto che venisse fatto riferimento che la donna intanto era stata colpita e martoriata di colpi che erano stati recisi entrambi i seli ma soprattutto erano presenti delle ciocche di capelli. Una firma comportamentale che difficilmente poteva passare inosservata soprattutto a Gildo Claps. Quindi si attiva va in Inghilterra e segnala che effettivamente Danilo Restivo comunque almeno per quanto riguardava la famiglia era il principale sospettato per la scomparsa di Elisa e soprattutto racconta che effettivamente era un soggetto dedito a questa attività di taglio dei capelli di ragazze inconsapevoli e di furto praticamente di appunto di queste ciocche. Da lì salta fuori quando cominciano anche i giornali inglesi a parlare del caso e a puntare su Danilo Restivo comincia a saltare fuori che molte altre ragazze inglesi avevano riconosciuto in Danilo Restivo la persona che aveva tagliato i capelli anche a loro. Quindi questo tipo di attività parafilica di matrice feticistica lui l'aveva proseguita assolutamente in maniera incessante nel corso degli anni. Tant'è vero che quando poi in relazione all'omicidio Barnett insomma faranno una perquisizione nella sua abitazione troveranno oltre 5.000 capelli appartenenti chiaramente a numerose vittime inconsapevoli che lui aveva collezionato nel corso degli anni che aveva disseminato sostanzialmente un po' per tutta l'abitazione nei sacchetti protetti e nascosti. Quindi questa sua attività feticistica evidentemente era un elemento fortemente caratterizzante e non è così frequente cioè è un elemento parafilico ossia la parafilia per peli formazioni pelifere peli capelli umani è un elemento effettivamente molto caratterizzante in particolare soggetti che hanno anche una componente sadica. Un altro soggetto che collezionava peli pubblici umani era Gianfranco Stefanini il serial killer di Terrazzo anche lui sadico sessuale gravissimo feticista chiaramente e pornomane. Il 14 settembre 2009 gli agenti inglesi arrivano a potenza per interrogare alcune persone coinvolte nel caso Clubs quindi a quel punto il legame tra l'omicidio Barnett e l'omicidio Clubs comincia effettivamente a strutturarsi. Guardate bene però che non è stata una passeggiata perché comunque restivo in qualche modo immaginandosi insomma un'attività investigativa che poteva riguardarlo ha costruito un alibi apparentemente solido perché aveva guarda caso conservato un biglietto dell'autobus che lo portava a questo nacro cioè questa sorta di centro per reinserimento di soggetti chiaramente disagiati che lui frequentava perché a Bormauf non lavorava e quindi stava cercando di evidentemente di ricollocarsi ma il problema è che non conosceva la lingua quindi aveva grosse problematiche quindi che fa? Tira fuori quando la polizia lo interroga tira fuori questo biglietto. La polizia però comprende che in realtà anche se c'è un orario astrattamente incompatibile con l'omicidio in realtà bastava che restivo salisse sull'autobus timbrassi il biglietto scendesse la diciamo la fermata successiva e tranquillamente sarebbe arrivato in tempo per poter commettere l'omicidio di Heather Barnett e tornare al nacro per poi consolidare il suo alibi quindi in realtà diciamo era un alibi che comunque faceva acqua d'altro le pare. Di fatto dicevamo il 14 settembre 2009 i due casi anche ufficialmente si intersecano l'ipotesi di un legame tra le due drammatiche vicende a quel punto diventa qualcosa di più che un semplice sospetto anche se purtroppo quello che poteva sembrare inizialmente un collegamento destinato a dare risultati in tempi rapidi così non è stato. Il 17 marzo 2010 arriva quella che tutti sperano sia la svolta decisiva perché? Perché nella chiesa della Santissima Trinità viene trovato il cadavere di Elisa Clubs. Chiaro che questo è un momento di svolta dell'inchiesta. Nel frattempo l'indagine sulla Barnett va avanti. Quando l'Inghilterra capisce che anche l'Italia sta andando avanti per insomma per i fatti suoi e ovviamente la scoperta della salma di Elisa avrebbe giocoforza portato ad un'accelerazione dell'indagine a carico di restivo a quel punto anche loro concretizzano l'ipotesi accusatore nei confronti di restivo e procedono per omicidio volontario più era gravato. E ora andiamo proprio a concentrarci su quello che è successo a Ether Barnett. Il 12 novembre 2002 a Bormauf una tranquillissima cittadina balneare del sud dell'Inghilterra viene consumato un delitto veramente atroce. La vittima è Ether Barnett a 48 anni, è una sarta che si dedica a piccoli lavoretti per mantenere i figli che sono due figli insomma molto piccoli, 14-12 anni all'epoca dei fatti. La polizia del Dorset collega diciamo come indagine la morte della diciamo di Ella Barnett a Elisa Claps perché? Perché guarda caso Ether Barnett vive davanti all'abitazione di Danilo Restivo e della sua compagna poi divenuta moglie Fiamma. E guarda caso proprio qualche giorno prima della morte di Ether Danilo Restivo era stato da lei perché doveva commissionare un regalo per, anche qua torna la storiella del regalo, per la compagna Fiamma un paio di tende fondamentalmente e guarda caso Ether Barnett subito dopo aver incontrato Restivo per mettersi d'accordo su questo lavoro per le tende informa i suoi familiari di aver perso una copia delle chiavi di casa. Peraltro questa era una donna molto attenta alla sicurezza domestica perché ovviamente era una mamma single con due figli minori quindi faceva molta attenzione che l'abitazione fosse il più sicura possibile quindi se ne accorge subito che un mazzo di chiavi manca l'appello. L'elemento però che chiaramente fa ricadere i sospetti su Restivo sono proprio le condizioni del corpo della donna che viene trovato in bagno dai due figli quello più grande chiamerà propri soccorsi orrendamente martoriato da numerosi colpi entrambi i semi recisi e chiaramente la presenza nelle mani della vittima di due ciocche di capelli una appartenente a Ether Barnett quindi questa cosa di tagliare le ciocche evidentemente che aveva per altri capelli abbastanza corti all'epoca era un elemento molto molto particolare e un'altra ciocca appartenente a una persona che poi non verrà più identificata ma è più identificata però l'elemento della presenza delle ciocche di capelli effettivamente insomma fu abbastanza abbastanza indicativo della possibilità che dietro anche questo delitto così fortemente ritualizzato dal punto di vista comportamentale poi molto simile come vedremo a quello commesso ai danni di Elisa ma in quel momento ancora chiaramente questo elemento non è chiaro che ci sia anche un elemento anche di grande comunanza dal punto di vista del mondo superandi oltre che della firma psicologica sui due corpi fa ritenere restivo un potenziale sospettato peraltro ci sono anche dei video di una telecamera c'è un vicino di casa che riconosce proprio il restivo che peraltro aveva anche una fisicità particolare molto robusto molto goffo questo volto anche un po' diciamo difficilmente non notabile sotto certi aspetti che dice di averlo visto proprio allontanarsi dall'abitazione della Barnett poco dopo l'orario individuato appunto per il decesso del resto scoprono di lì a poco che anche tutta una serie di ragazze di Bournemouth avevano subito il taglio di capelli da parte di un soggetto che avevano visto poi allontanarsi dopo aver tagliato loro i capelli che avevano riconosciuto in restivo cosa che lo fa fortemente arrabbiare ci sono delle intercettazioni dedicate proprio a questi passaggi in cui lui appunto si lamenta che queste ragazze lo abbiano riconosciuto sostenendo che si trattava di un riconoscimento in qualche modo alimentato suggerito dai media e ne parla proprio con la sorella che chiaramente gli dice sì ma t'hanno riconosciuto però sei stato tu circostanza che lui cerca in qualche modo di negare ma la sorella sa bene che purtroppo il fratello ha questo tipo di problematiche e probabilmente non solo quelle di fatto viene quindi arrestato restivo per l'omicidio di Ether Barnett poi verrà processato e condannato nel frattempo chiaramente si sviluppa tutta l'inchiesta sul caso Claps a partire da quel 17 marzo 2010 in realtà sono molti devo dire io appartengo a questa schiera a pensare che il ritrovamento di Elisa la vera scoperta del corpo sia antecedente a quella diciamo ufficiale e che qualcuno in questi anni insomma abbia deciso di non raccontare le cose come come stavano in merito a quando effettivamente è stato ritrovato il corpo peraltro guarda caso proprio in concomitanza della presenza del corpo di Elisa trovato diciamo ormai sostanzialmente sceletrizzato con alcuni elementi però ancora presenti determinanti per il riconoscimento ma soprattutto poi per inchiodare il restivo perché alcune tracce di restivo nonostante il tempo intercorso fu possibile ritrovarle perché il DNA asciugandosi comunque aveva trovato modo di non deteriorarsi quindi c'era ancora la possibilità di fare questa valutazione però l'elemento che effettivamente salta agli occhi in maniera abbastanza anche sconvolgente e che proprio in concomitanza del posizionamento del corpo di Elisa si sia trovata una sorta di buco nel tetto e solo lì che ha consentito chiaramente un passaggio d'aria determinante per consentire una diciamo una sostanziale mummificazione di una serie di diciamo della parte restante del corpo di Elisa e soprattutto la dissipazione del cattivo odore che inevitabilmente ne sarebbe derivato se non ci fosse stato quel tipo di diciamo condizione ragion per cui effettivamente insomma l'ipotesi che qualcuno abbia aiutato restivo nelle fasi immediatamente successive all'omicidio e negli anni poi a seguire nel determinare quel tipo di condizione e agevolare quindi il nascondimento del corpo di Elisa diversamente non si spiega quindi non è possibile che almeno la parte dell'occultamento sia solo frutto dell'attività del estivo perché non ne avrebbe avuto il tempo perché lui comunque arriva a una certa ora a casa a mangiare per pranzo dove poi lo trovano di fatto i fratelli di Elisa per cui non ha avuto il tempo di fare tutto quello che effettivamente è accaduto quindi qualcuno certamente lo ha aiutato e mi auguro che questo qualcuno prima o poi abbia un nome, un cognome perché è davvero la parte di questa storia che va chiarita e in questo la famiglia Capsa ha sacrosanto diritto di sapere l'autopsia sui resti di Elisa sveglierà che la ragazza era stata uccisa con 13 colpi la maggior parte dei colpi peraltro inferti mentre la ragazza dava le spalle all'assassino quindi evidentemente Elisa aveva declinato l'invito di restivo oppure aveva diciamo del regalo non c'è nessuna traccia lui non ha mai chiarito neanche di quale fosse questo famigerato regalo per quanto riguarda Elisa ma verosimilmente era l'ennesima scusa però la ragazza viene colpita principalmente alle spalle e poi probabilmente quando si gira tentando una difesa disperata anche frontalmente però diciamo è stato un omicidio veramente vigliacco anche sotto questo profilo e poi naturalmente per estivo le aveva tagliato qualche ciocca di capelli quelli restanti dimostrano chiaramente che c'è stata un'attività di taglio della porzione mancante dei capelli e naturalmente anche la biancheria intima quindi c'è un aspetto, una firma comportamentale veramente diciamo inconfondibile Danilo Restivo di fatto è l'ultima persona ad aver visto in vita Elisa Claps Danilo richiara di essere stato in compagnia di Elisa per una decina di minuti all'interno della chiesa trascorsi i quali verso mezzogiorno lei se ne sarebbe andata lasciandolo lì fondamentalmente in maniera tranquilla Danilo sostiene averla seguita con lo sguardo ed averla vista uscire dalla chiesa poi dopo anche lui sarebbe uscito dalla chiesa e avrebbe gironzolato per un po' a potenza a quel punto avrebbe avuto il famoso incidente nel cantiere in costruzione delle scale mobili cadendo rovinosamente ed è quello sarebbe stato il motivo per cui le 13.45 va in ospedale per farsi curare questa vistosa ferita alla mano che però è una ferita totalmente incompatibile con la quantità di sangue che viene trovata addosso a lui ma nessuno si pone alcun tipo di quesito Restivo classe 1972 è considerato una persona alquanto bizzarra è figlio del direttore della biblioteca nazionale di potenza ed è nipote di un ex ministro della democrazia cristiana come vi dicevo già all'età di 14 anni viene denunciato per aver legato e serviziato due ragazzini uno dei due peraltro come vi anticipavo era stato fritto al collo molto gravemente anche lì c'era stata la sceneggiata manipolatoria di dire venite con me nei confronti della ragazzina venite con me vi faccio vedere un posto bellissimo una sorpresa bla 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 e per portarli lì convincendola insistendo insistendo lei si era portata dietro a questo cuginetto che aveva 11 anni all'epoca quando poi li aveva legati li aveva anche diciamo bendati una volta arrivati lì aveva allestito un vero e proprio set c'era un set vero e proprio e aveva indossato dei guanti aveva indossato dei guanti prima di prendere il coltello per tentare di sgozzare il ragazzino quindi c'era insomma una strutturazione considerando che era un ragazzo di 14 anni veramente molto molto inquietante insomma sotto questo aspetto e all'epoca questa cosa non la famiglia di Danilo la insomma decise di coprirla decise di coprirla e quindi le informazioni vennero rese in maniera non corretta chissà se quel giorno fosse stato segnalato per la gravità di quello che aveva commesso peraltro aveva già 14 anni compiuti quindi era anche imputabile quindi comunque sarebbe rimasta traccia di quel tipo di azione chissà se fosse stato denunciato all'epoca se la famiglia avesse seriamente in qualche modo affrontato le problematiche di questo ragazzo senza derubricare il tutto a un gioco tra cowboy e indiani perché questo fu un po' la chiave di lettura di questa situazione totalmente insomma inconciliabile, incomprensibile chissà se all'epoca si fosse agito diversamente se oggi saremmo qui a parlare del caso di Elisa del caso di Ether e chissà di quanti altri dopo la scomparsa di Elisa la famiglia la famiglia scusate dire estivo lo fa allontanare da Potenza prima lo manda a Rimini poi a Torino ma chiaramente ovunque va tutti quanti ricordano questo soggetto con il vizio di tagliare i capelli e anche un modo molto molto bizzarro di rapportarsi con le persone questa voce quasi cantilenante da bambino questa modalità da dottor Jekyll e mister Hyde insomma tutti lo descrivono come soggetto profondamente impetante nel 98 sempre a proposito del caso Caps viene condannato per falsa testimonianza falsa dichiarazione diciamo a pubblico ministero uscito dalla vicenda giudiziaria immediatamente si mette a depistare ulteriormente e quindi va il famoso messaggio dal Brasile dove dice sono Elisa sto bene non lasciatemi in pace non mi cercate più insomma quindi comunque lui subito si attiva ulteriormente subito dopo la condanna per farsi attestazioni per depistare ulteriormente sono passati anni nel frattempo dalla scomparsa di Elisa che cosa succede? a un certo punto la famiglia decide di mandarlo proprio fuori quindi fa il grande salto e va in Inghilterra a Bornhoff lì frequenta un corso di computer va detto con scarso successo ma a livello scolastico lui è sempre stato estremamente diciamo portatore di risultati a dir poco scadenti insomma non combinava una e alla fine hanno dovuto mettere una scuola sostanzialmente di quelle private arriva lì incontra nel frattempo una donna italiana molto più anziana di lui che vive a Bornhoff affittando delle stanze della sua abitazione a degli studenti e si mettono insieme per un po' sembra andare tutto abbastanza bene cioè lui cerca di inserirsi con scarso successo la lingua la conosce poco però bene o male grosse cose che lo riguardano non ne saltano fuori problema grosso e che poi arriva appunto dicevamo sempre nel novembre sempre il 12 novembre quindi lo stesso giorno in cui scompare Lisa in questo caso del 2002 viene trovata la vicina trucidata con appunto queste ciocche di capelli sulle mani ciocche di capelli che ripeto una delle quali non apparteneva a Eter che cosa succede? e da questo punto l'Inghilterra naturalmente procede nei confronti di Restivo siamo ormai abbondantemente nel 2009 nel frattempo viene trovato il corpo di Elisa alla Santissima Trinità nel 2010 le due inchieste a quel punto si sovrappongono e lì diventa un po' un gioco di incastri perché fondamentalmente l'Inghilterra non ha nessuna intenzione di mollare Restivo perché chiaramente il tipo di reato commesso là è un reato da Ergassolo e in Inghilterra Ergassolo vuol dire fine appena mai cioè non ci stanno sconti di pena non ci sono diciamo situazioni alternative quindi comincia a diciamo mentre lui è sotto processo in Inghilterra in carcere chiaramente perché è stato arrestato per l'omicidio Barnett e viene processato anche in Italia per quanto riguardava l'omicidio di Elisa Clubs per cui verrà condannato ma lui sta scontando e resterà a scontare a mio modo di vedere la condanna all'Ergassolo che è intervenuta prima quella in Inghilterra per l'omicidio Barnett e l'Inghilterra non lo manderà mai qua anche perché per quanto riguarda la pena inglese chiaramente più diciamo attendo l'Ergassolo è una pena comunque più ampia e non prevede la possibilità di scarcerazione anticipata quindi comunque restivo sconta e continuerà a scontare sostanzialmente la pena per la Clubs mentre sta scontando la pena in Inghilterra diciamo per l'omicidio Barnett quindi di fatto è così e non mi sembra comunque che sia una cosa negativa ragazzi perché onestamente insomma per quanto riguarda la possibilità di scarcerazione anticipata per l'Inghilterra è sicuramente molto più severa di noi quindi ci sono ottime possibilità che dal carcere davvero non esca sostanzialmente mai più subito dopo il ritrovamento chiaramente di Elisa i mesi a seguire arrivano tutta una serie di notizie per quanto riguarda gli accertamenti di natura medico-legale e naturalmente di tipo antropologico-forense visto considerato che buona parte ormai del corpo di Elisa era diciamo scheletrizzato il corpo era come vi dicevo coperto di tegole calcinacee materiale di risulta di edilizia ma non coperto in termini di nascosso l'elemento appunto che balzava gli occhi era questa presenza di questo buco guarda caso solo lì che effettivamente aveva consentito una diciamo una un andamento della putrefazione assai meno evidente assai meno diciamo acre rispetto a quello che normalmente poteva accadere se da lì non ci fosse stata quella presa d'aria fondamentalmente secondo gli esperti che hanno analizzato il corpo la vittima aveva riportato una serie di fratture alle costole quindi probabilmente che dovevano essere post mortem quindi probabilmente qualcosa l'aveva coperto il corpo successivamente alla morte ma in realtà fondamentalmente la causa di morte era intervenuta per shock emorragico dovuto appunto alle numerose ferite da punta e taglio fondamentalmente l'elemento che balza gli occhi in particolare sulla maglia che Elisa indossava maglia che aveva confezionato proprio la mamma di Elisa è diciamo la presenza di materiale genetico riconducibile proprio a Danilo Restivo questo è l'elemento che in qualche modo sancisce definitivamente la diciamo la colpevolezza di Danilo Restivo anche nell'omicidio chiaramente di Elisa Clubs questi sono aspetti sicuramente importanti in particolare la perizia autoptica affidata al professor Francesco Introna dà una serie di indicazioni molto precise la ragazza è stata uccisa secondo Introna sostanzialmente in un'area immediatamente limitrofa al luogo in cui è stata ritrovata e quindi praticamente nell'area del sottotetto della casa della chiesa della Santissima Trinità gli efflubi cadaverici possono non essere stati avvertiti da nessuna a causa della particolare conformazione del sottotetto e soprattutto a causa di questa sorta di presa d'aria che verosimilmente è stata creata ad hoc e certamente non da Danilo Restivo l'arma con cui è stata colpita è un oggetto monotagliente appuntito probabilmente un coltellino di piccole dimensioni con una lama di circa 5,5 cm i colpi inferti sono 13 in tutto 12 di punta e taglio 1 da taglio 9 alle spalle 4 al torace come vi dicevo il grosso dell'attività diciamo da punta e taglio è stato prodotto con la vittima che dava le spalle all'adversione il corpo di Elisa è giunto sul luogo del ritrovamento trascinato per i piedi e la testa in giù come dimostrano gli strappi presenti sul pantalone indossato dalla vittima all'altezza del ginocchio sinistro Elisa è stata trovata con i pantaloni e le mutandine abbassate il reggisino tagliato anteriormente a livello della giunzione delle coppe quindi chiaramente non è stato strappato ma tagliato nell'immediatezza dell'aggressione subito dopo l'omicidio Elisa sono state tagliate delle ciocche di capelli di cui almeno una abbastanza ampia di netto i segni sulla parte restante non lasciano dubbi sul punto come vedete è una descrizione che ben si accosta anche a quella che purtroppo dell'aggressione che ha subito Eter Barnett in particolare il passaggio del reggisino tagliato ma soprattutto delle ciocche dei capelli tagliati si collega in automatico proprio all'omicidio Barnett e di conseguenza Danilo Restivo da sempre indicato come possibile assassino di entrambe le donne Danilo noto proprio per la sua parafilia anzi disturbo parafilico parliamoci di chiaro di tagliare ciocche di capelli alle ragazze di lì a poco finisce in carcere a Bormouth e fondamentalmente verrà raggiunto da un mandato di arresto europeo per l'omicidio classico che però non venne mai eseguito fondamentalmente perché nel frattempo la polizia inglese aveva e la procura inglese avevano determinato che il primo procedimento a incardinarsi era allora e quindi avevano chiaramente diritto di procedere nei confronti del diputato la difesa di Destivo ha continuato a sostenere che lui fosse estraneo a entrambi i delitti ma come ben sappiamo i giudici sia inglesi che italiani non li hanno assolutamente creduto fondamentalmente lui è rimasto quindi recluso in Gran Bretagna attualmente lì a partire dal 12 novembre del 2002 quindi fondamentalmente cioè scusate è stato arrestato e ha continuato a scontare la pena in Inghilterra per il delitto di Heather Barnett avvenuto il 12 novembre del 2002 in Italia il 23 ottobre del 2014 la Cassazione ha condannato in via definitiva restivo a 30 anni di reclusione quindi la sua è una pena inferiore rispetto a quella che è stata riconosciuta in Inghilterra per l'omicidio di Elisa Clubs nel frattempo comunque la sentenza inglese era divenuta definitiva ci sono degli aspetti chiaramente molto interessanti di collegamento tra questi due casi ma il vero problema è che fondamentalmente ci sono almeno altri tre casi di altre tre donne peraltro morte in Inghilterra nel periodo in cui restivo anzi due morte in Inghilterra e una ragazza scomparsa in Italia che hanno le medesime caratteristiche vitimologiche delle vittime di restivo e che potrebbero aver avuto effettivamente contatti con restivo che oggi effettivamente sono ancora casi insoluti quindi insomma sono degli aspetti indubbiamente molto importanti da valutare sotto questo profilo ma al momento ripeto non ci sono stati ulteriori sviluppi e lui di fatto è in carcere e continua insomma a rimanerci e ci resterà per il resto della vita proprio per l'omicidio di Eter Barnett e per l'omicidio chiaramente di Elisa Claps ci sono state numerose testimonianze in questi anni che hanno portato chiaramente a ritenere restivo la persona di riferimento per quanto riguardava queste due aggressioni e molteplici altre numerose donne lo hanno riconosciuto come l'autore appunto del taglio delle ciocche di capelli ma indubbiamente l'aspetto centrale riguarda proprio l'elemento parafilico la firma comportamentale principale di restivo è proprio collegata al tipo di rituale che mette in campo un rituale estremamente preciso estremamente coartato rigido tipico di chi ha una personalità profondamente malevole e disturbata di natura narcisistica lui ha sempre mentito ha sempre negato ha sempre manipolato ha cercato in tutti i modi effettivamente di trarre vantaggio della sua situazione ha cercato di depistare l'inchiesta in particolare per quanto riguardava quella su Elisa Claps ogni volta che ne ha avuto l'occasione oggi siamo qui a parlare del caso di Elisa e chiaramente dell'autore dell'omicidio ma effettivamente all'appello a mio modo di vedere ancora qualcuno manca e mi auguro che il grande lavoro fatto dalla famiglia Claps sotto questo profilo possa portare a questo sviluppo decisivo diciamo che c'è sicuramente chi ha coperto l'estivo e chi sapeva che quel sottotetto custodiva un segreto inconfessabile amici vi saluto anche per oggi è tutto questo approfondimento relativamente al caso Claps mi sembrava interessante diciamo effettuarlo perché è importante parlare di questo tipo di vicende proprio perché effettivamente anche in questo caso come in molti altri la soluzione era veramente a portata di mano ma si è evidentemente voluto preferito non si è saputo guardare nella giusta direzione c'è una bella serie su Sky dedicata proprio a tutta questa vicenda con dei contributi molto interessanti che mostrano effettivamente però quanto la famiglia Claps ha dovuto faticare tra momenti di grande disperazione per farsi in qualche modo spazio per trovare il giusto ascolto per far sì che effettivamente l'ipotesi investigativa che loro hanno avuto in mente dal primo nanosecondo rispetto a questa inchiesta potesse trovare conferma e il grande lavoro della famiglia Claps è stato determinante per arrivare alla soluzione del caso perché non hanno mai mollato la presa e probabilmente se Restivo non è riuscito a dar seguito a tutti i suoi impulsi devianti e distruttivi anche perché sentiva sul collo il fiato di in particolare della mamma di Elisa di suo fratello Gildo e di suo fratello Luciano papà di Elisa è stato travolto da questa tragedia e non è mai più stato lo stesso da quando la sua piccola è scomparsa ma indubbiamente la famiglia Claps è stata determinante per arrivare alla verità se fosse stata ascoltata prima probabilmente oggi non piangeremmo Eter Barnett questo forse è l'elemento di più grande rammarico in questa storia amici vi saluto e vi ringrazio anche per questo diciamo per questo ascolto torneremo a parlare dei grandi casi perché di vicende di questo tipo ahi noi ce ne sono parecchie continuate a seguirmi sui miei canali quindi Roberta Bruzzone psicologa e criminologa su YouTube Roberta Bruzzone psicologa e criminologa su Facebook e per chi non l'avesse ancora fatto il suggerimento è di appunto iscriversi al canale in modo tale da essere aggiornati su ogni nuovo contributo a presto